Benvenuti al Monte Catria, il nuovo paradiso dello sci marchigiano. La montagna più alta della provincia di Pesaro Urbino vi presenta la comoda cabinovia che parte da frontone, il rifugio Monte Catria a Cotaline, sempre aperto con 7 camere e 30 posti letto, a due passi dal rifugio, l'unico Kinderland sulla neve della regione Marche, e poi ancora il nuovo comprensorio in quota che offre 13 piste da sci per 12 chilometri, con nuove seggiovie triposto e quadriposto. Godetevi le nostre ciaspolate nel bosco con le nostre esperte guide.